Ben tornato Gutier, ben tornata. Da questo momento inizierai a lavorare con il computer. Infatti effettuerai il primo avvio. Questa sarà una lezione per dominatori del computer. Partiamo un po' da lontana. Il primo avvio della flotta stellare a bordo della mitica Enterprise nella saga televisiva di Star Trek. Questa frase era ricorrente pochi istanti prima che l'ufficiale ingegnere capo dell'astronave Enterprise, appunto Scotty, attivasse la procedura del teletrasporto. Era una tecnologia che portava in ambienti e scenari diversi i protagonisti. Anche se potrai non condividere in esso, questo esempio mi è venuto di getto all'atto della stesura di questa lezione, in quanto calza a pennello per il tuo futuro. Infatti stai per effettuare un salto di qualità incredibile in uno scenario didattico di tipo software. Ora eseguirai la tua prima accensione del computer che hai acquistato ed assemblato. Proiettati quindi nella scena, certamente materializzerai con tua grande soddisfazione quello che accadrà nel momento in cui premerai il tasto per la prima accensione. Ok, mi dirai, ma cosa accadrà? Prima di accendere, quando tutto è pronto, esegui un controllo. Verifica infatti che tutte le periferiche descritte nelle ultime lezioni siano collegate. Dopo di ciò, accendi il gruppo di continuità se lo hai acquistato oppure la ciabatta ed assicurati che l'alimentatore interno al PC sia posizionato su ON oppure nella posizione 1. Ora, regati davanti al case e, incrociando le dita, anche se non è necessario, premi il tasto per l'accensione. A questo punto, lo stesso, oppure in alternativa, il LED di stato di accensione del PC si illuminerà. Accendi subito anche il monitor e, dopo qualche istante, inizieranno a comparire una serie di scritte e cifre più o meno comprensibili. Quello che evidenzierai ora, però, non sarà standard per tutti i computer. Infatti, ciò dipenderà dal tipo di hardware acquistato e anche dal software presente all'interno del computer. Nel caso specifico, comunque, evidenzierai delle sigle, dei nomi, dei codici e numeri riferibili, in prima parte, al programma residente all'interno della schiera madre, che è memorizzato in una memoria chiamata Flash Memory. Questo programma ha la denominazione di BIOS, che è l'acronimo di Basic Input Output System, ossia un sistema di controllo per le periferiche di ingresso e di uscita. Ad ogni accensione, il tuo BIOS attuerà varie operazioni. Le più rilevanti sono gestire l'avvio del computer, eseguire un'autodiagnosi, ossia un controllo dell'hardware per rilevare eventuali problemi, eventuali conflitti tra i componenti, mantenere in memoria alcune impostazioni dell'hardware installato nel tuo computer, fornire all'utente, quindi a te, la possibilità di variare alcuni parametri ed impostazioni nella gestione del tuo PC, in una zona chiamata Setup. Gestisce anche la comunicazione tra le varie parti della scheda madre, cerca sul disco rigido i dati, specificatamente nel primo settore, che serviranno per avviare il sistema operativo installato. Mi dirai, ma se non è installato alcun sistema operativo, non ti preoccupare, pian piano vedremo anche questo. Ok, in definitiva però, cosa vedo? Cosa vedrai sul tuo monitor? Anche se è abbastanza impossibile eseguire una descrizione univoca per ogni computer, perché, come ripeto, ciò sarà attinente all'hardware e al software presente sul tuo computer, in linea di massima posso darti un'indicazione di ciò che vedrai. Aggiungiamo anche il fatto che, per velocizzare l'avvio del PC, la visualizzazione di questi parametri e l'accesso a tale programma a volte non è visualizzabile o è visualizzabile solo dopo aver premuto un tasto specifico sulla tua tastiera, nel qual caso dovrai evidenziare, grazie al libretto di istruzione della scheda madre e del computer in genere, quale tasto ti permetterà di accedere alla schermata internal BIOS e quindi al suo setup. Comunque, nella prima schermata ti compariranno una serie di informazioni. Ti allerto soltanto di una cosa, data la rapidità del flusso di queste informazioni, sarà abbastanza difficile stare dietro nella lettura. L'unico modo per poter bloccare e permetterti la lettura di queste sigle sarà premere il tasto PAUSA INTERRUPT che è presente nella tastiera, nella zona più o meno in alto a destra, dopo la serie dei tasti FULZIONE. Premendo questo tasto, si bloccherà il processo di elaborazione del BIOS, mettendolo in una sorta di pausa, cosicché ti permetterà di leggere quanto meglio le informazioni fornite. Per riprendere l'elaborazione del BIOS, sarà sufficiente premere qualsiasi tasto sulla tastiera. Nel caso fosse necessario, puoi anche ripetere il blocco dell'elaborazione del BIOS. Una premessa è d'obbligo, nella zona in alto della schermata iniziale potrai leggere il nome dell'azienda che produce il BIOS e una stringa alfanumerica. In questa stringa ci sono presenti una serie di caratteri numerici e alfabetici che, in base alla posizione, hanno un determinato significato. Ad esempio, rappresentano il tipo di CPU, le dimensioni del BIOS, la versione e la revisione alla data dello stesso, il numero identificativo del BIOS e ancora altre informazioni. Non preoccuparti più di tanto di queste sigle, in quanto se vuoi ottenere informazioni meno ossiche da comprendere, ciò ti sarà possibile grazie ad altri programmi che poi potrai installare tranquillamente nel tuo sistema operativo. Un ipotetico esempio è il programma Glary Utilities che ti permetterà di accedere a alcune informazioni presenti all'interno del sistema operativo e fornirti indicazioni della versione del BIOS e della sua data di costruzione. Altro programma abbastanza simile è Iobit Toolbox. Come potrai vedere, accedendo alle informazioni del sistema operativo potrà evidenziarti alcune informazioni relative proprio al BIOS stesso. Come ti spiegherò più avanti nel percorso didattico, questi sono alcuni dei programmi che, insieme ad altri straordinari strumenti, costituiscono la cassetta degli attrezzi di un dominatore del computer. Quindi saranno anche i tuoi. Per completezza di informazioni, anche a costo di essere ripetitivo, è opportuno dire che, anche all'interno del sistema operativo, sfruttando le informazioni fornite dall'utility interna al sistema stesso, chiamata Microsoft System Information, oppure al registro di sistema tramite il programma Regedit, potrai ottenere le medesime informazioni. Infatti, proprio citando quest'ultimo, potrai vedere che, leggendo all'interno del registro di sistema, cosa tra l'altro abbastanza ostica, avrai l'opportunità di evidenziare alcune informazioni. Ma queste sono operazioni che effetteremo ben più avanti nel percorso. Dopo questa lunghissima spiegazione, dovrai anche capire perché può tornarti utile rilevare le informazioni del tuo BIOS. Ma questo lo vedremo nella prossima lezione. Ora, un grosso saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima!